Continuiamo a parlare di tutela dei prodotti di qualità e la difesa del Prosecco italiano a cui l'Europa ha riconosciuto la denominazione d'origine protetta rispetto al vino Prosecco prodotto in Croazia, spetta alle autorità competenti degli Stati membri. Questa è la risposta della Commissione europea a un'interrogazione presentata dagli eurodeputati della Lega Nord, Lorenzo Fontana e Giancarlo Scottà. Su questa risposta all'interrogazione sentiamo proprio il capo di legazione della Lega Nord, Lorenzo Fontana. Diciamo che purtroppo è una vicenda che si ripete costantemente, le qualità e i prodotti di qualità italiani e del Nord vengono sempre più spesso replicati, ovviamente non con la stessa qualità, nel resto d'Europa e non solo. è una battaglia che è vitale per le nostre produzioni perché sappiamo che a livello concorrenziale noi siamo sfavoriti da tanti fattori, soprattutto dal costo del lavoro ma non solo da questo e dobbiamo puntare sulla qualità, però significa anche riuscire a tutelare le nostre produzioni dai falsi prodotti che vengono appunto fatti all'estero. Questa battaglia che ormai da anni stiamo portando avanti ci ha trovato però in difficoltà perché spesso e volentieri altri paesi che evidentemente hanno interessi molto differenti rispetto ai nostri bloccano qualsiasi tipo di iniziativa. Noi comunque sicuramente continueremo ad andare avanti perché riteniamo che se vogliamo effettivamente difendere le nostre produzioni una delle situazioni fondamentali che dobbiamo riuscire a portare a termine è quella di fare in modo che queste produzioni siano certificate e appunto si riesca a capire perfettamente da dove queste produzioni arrivino. Credo che l'Europa debba anche capire che se vuole essere sentita dai cittadini e dai produttori in maniera diversa da come è sentita in questo momento deve farsi carico di proposte di questo tipo e deve far capire che la sua funzione è anche quella di tutelare le produzioni di qualità.